...compreanno a Claudio, il nostro maestro. Auguri, auguri. Che dire di lui? Che è la persona che incontri per caso, che ti trasceglie sul mondo, fatto di tanti balli, risate, serate insieme e tanto divertimento. Vogliamo farvi gli auguri perché è una persona allegra, solare, sensibile e che merita tutto il nostro rispetto e la nostra voce. Grazie, grazie veramente di cuore ai miei alieni che mi supportano e mi sopportano. Allora, a parte questo, insomma, io stasera per me è una serata speciale, a parte il mio compleanno che festeggio oggi ma era il 9 di novembre e che lo ritengo comunque una cosa secondaria. La mia gioia va alla riuscita della raccolta per il cibo, per i micetti che abbiamo fatto e tanti amici hanno portato. E doneremo in toto all'Associazione Amici di Berillo di Aprilia. E tutto questo grazie agli allievi miei presenti, alla scuola di Emi Mangano, la Sinisa di Velletri, un applauso ai suoi allievi presenti e anche ai miei presenti in quanto tutti loro hanno contribuito. A Cristina Lauretti e Simone Bassetti, un applauso anche a loro, alla loro scuola e a tutti i loro allievi che hanno partecipato. A Roberta Castagna, della Happy Dance School di Cisterna e i suoi amici che ci hanno onorato della loro presenza e anche loro hanno contribuito alla riuscita della raccolta per questi poveri micetti che io tengo tanto a cuore. Poi alla maestra Raffaella Selleri, del club dell'incontro, un applauso grandissimo anche a lei e ai suoi allievi, anche a quelli che non sono presenti e che comunque hanno partecipato. In particolar modo un applauso grandissimo, io lo vorrei da tutti quanti al piccolo reggio di Franco Imperiani che ci consente di fare questo. E a tutti gli amici, gli amici anche non appartenenti alle scuole di ballo presenti che comunque più di qualcuno ha contribuito, ha partecipato. E niente, che dire? Grazie, grazie, grazie. E facciamo un bel applauso, belli insedini che vanno sempre rilevati in qualche modo. Allora, rilasciamo tre balli di passaggio, arriva il bongo!